Siamo ora nel vivo del nostro concerto con la sinfonia del Nabucco. Equilibrata nella forma e nel contenuto tematico, questa sinfonia esprime l'affermazione poetica e stilistica dell'autore. Al dualismo espositivo della prima parte, segue l'antantino con il famoso tema del cono, che costituisce il numero e il momento più significativo di tutta l'ora. Buon ascolti. Buon ascolti. Buon ascolti. Buon ascolti. Buon ascolti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.